Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme a largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B valenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. È tempo di morire. È tempo di morire.